Grazie a tutti. 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 idades. Ehi, lei, lei giusto? Ce la fai? Scusa, che spazio! Dai Luca, vai! Dai uno, su! Lo tieni? Va bene qua, arbitro! Guarda l'otto, guarda l'otto qui in mezzo! Sono pianici! Dai, bravi! Dai che rosso! Sì che rosso! Dai in largo, dai in largo! Calvola tutti le gerenze! Sì che rosso! Sì che rosso adesso! Dai! Bravo Ale! Bravo, bravo! Bravo! 5, 2! 1 Bravo! Bravo Dombi! Sì che bravo.. Bravi, 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 bravi. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi, bravi. 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 Marco la partita è iniziata 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 bravo bravo Giuse è iniziata è iniziata bravo bravo è iniziata è iniziata bravo 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 Giuseppe. Uno. Bravo Fabio. Non fare niente. Sta bene. Una partita. Un primo gol. Bravissimo. Bravo. Una partita. Questa difficile. ... Bravo Giuseppe. Bravo. 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 Grazie a tutti. andiamo a prenderci bravo bravo matti bravo matti bravo matti bravo 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 Grazie. 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 Ciao. Ciao. Grazie. 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 Bello! Vai! Bravo Mattia! Grande Mattia! Bravo Mattia! Bravo Tommy! Vai bene che in triangoli, vedi? Bravo! Qu'è un cuore? Ho la nossa opzione? Benissimo Facebook, tivemos preto e che av�! Provando an presidenta da Lubrington a Parque Lingua. Pensioni a Parque Lingua e Gerda No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mamma guarda la mia pavera cosa Mamma è diventato Mamma è diventato un pezzo di pasta Bravo, bravo Nico Bravo, bravo È andata via tua mamma È andata Tu sei andata in macchina ad aspettare Sono veramente 6 a 0 6, 6 a 0 Vai, vai, vai Dai Luca, schiù Bravo Grazie. 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 Io vado a casa. Devo fare i compiti. Grazie. 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 Bravo, bravo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.